Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo di come proteggersi dalle truffe online e vedremo un po' più nel dettaglio quali contromisure prendere quando acquistiamo dalla rete e soprattutto cari amici voglio mettervi sul chi va là sull'acquisto di pellet dal web perché ho visto qualcosa che diciamo è molto ma molto sospetto in pratica la gente mette annunci dove va a regalare il pellet purtroppo come sappiamo c'è stato un aumento spropositato delle materie prime l'elettricità è andata alle stelle come anche il combustibile e il gas quindi magari qualcuno in vista del prossimo inverno dato il rincaro appunto del pellet che è passato dai 3-4 euro a sacchetto ai 6-8 anche 10 euro attuali potrebbe avere la brillante idea di comprarlo online nulla di male io acquisto quotidianamente dalla rete ma purtroppo ho riscontrato troppi e sottolineo troppi annunci in prima pagina delle ricerche di google che in realtà sono trappole in pieno stile so l'enegmista ma prima di andarle a vedere cari amici solito momento supporto lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni vi ricordo che su tiktok dove ho superato i 10.000 followers volevo ringraziarvi posto guide e trucchi in meno di un minuto ma non perdiamoci in chiacchiere vediamo cosa succede se cerchiamo bancale di pellet su google ci sono veramente tante inserzioni io mi soffermerò su una sola perché fondamentalmente cari amici sono tutti quanti uguali quindi andrei a ripetere sempre la stessa cosa ricordandovi che 3,50 euro per un sacchetto di pellet al momento quindi ad oggi sto registrando il video ed è il 19 di luglio del 2022 e pura utopia quindi facendo la ricerca su google e nell'area shopping vediamo un sacco di inserzioni che parlano di un intero bancale di pellet quindi una settantina di sacchi a prezzi molto ma molto allettanti e anche cari amici con spedizione gratuita apriamo ad esempio questa inserzione 72 sacchi a 250 euro circa 3,50 euro al sacchetto prezzo di mercato fino allo scorso anno ma fuori dal mondo al periodo attuale ma qualcuno cari amici potrebbe pensare di fare l'affare supponendo di acquistarlo fuori stagione magari supponendo che ci sia molta giacenza in magazzino non è così andiamo a analizzare il sito e tutti i dati che ci vengono offerti partendo dai più eclatanti a quelli cari amici più sottili prima cosa il sito sembra abbastanza poco curato questo qua è un parere mio da informatico ma vi posso garantire che è fatto veramente in maniera frettolosa per la serie deve funzionare in poco tempo appunto non andiamo tanto per il sottile tant'è vero che se clicchiamo sulle icone dei social qui in basso ci riporta ai collegamenti di Wix che per chi non lo sapesse è un servizio che ci permette di creare dei siti senza avere nessuna competenza informatica altra sottigliezza se mettiamo l'url del sito su Wix ci dice quando è stato creato e a chi è registrato e anche qui cari amici c'è qualcosa che non va creato meno di 4 mesi fa ultimo aggiornamento ad aprile un e-commerce aggiornato mesi fa ma mi sta accendendo qualche spia rossa il sito comunque risulta essere intestato a questa persona che vedete qui a schermo ricordo che nulla di ciò che vi mostro sono dati sensibili e sono dati facilmente consultabili in rete senza alcuna competenza informatica vi lascio comunque sotto in descrizione tutti quanti i link dei siti che sono andato ad utilizzare ma cari amici andiamo a dati più succulenti l'agenzia delle entrate ci permette di controllare la partita IVA se è valida e a chi è intestata vediamola insieme questo è il risultato che otteniamo inserendo appunto la partita IVA che è presente sul sito che riporta l'inserzione dei sacchetti di pellet a meno di 3,50 euro come potete vedere cari amici la partita IVA risulta cessata nel 2007 sì avete capito bene 2007 più precisamente 10 marzo 2007 se prima cari amici c'era un campanello di allarme ora è una sirena antiaereo vediamo ora i metodi di pagamento io scommetterei che non sono qualcosa tipo pagamento con poste pay o bonifico bancario che ricordo non hanno alcun tipo di protezione sugli acquisti alias se succede qualcosa vi aspetta una trafila lunghissima che non vi assicura di poter recuperare il capitale e poi cari amici vi posso garantire che se si spendono 250 euro per recuperarli ne andresti a spendere tra tempo e avvocati molti ma molti di più e anche su questo si gioca la truffa ma simuliamo un acquisto inserendo i dati vedremo che la spedizione è gratuita ora cari amici se simuliamo il costo di una spedizione io non vi nascondo che ho chiamato un caro amico che vende pellet mi sono fatto dare il peso approssimativo e le misure approssimative di un bancale di pellet vi posso garantire che la spedizione di un bancale di pellet supera le 200 euro e in questa inserzione è gratuita fantastico se cari amici fosse reale in più come potete notare il pagamento avviene solo con bonifico bancario l'Iban risulta intestato a questa persona e la banca invece risulta essere una banca di Genova come potete vedere dai dati che chiunque ripeto cari amici riesce a estrapolare ho visto tante anzi direi troppe inserzioni del genere quello che voglio dirvi è di stare attenti perché facendo il pagamento ci troveremo ben presto cari amici con un pugno di fichi secchi oltre che tanta rabbia e tanti sbattiti in ultima battuta se facciamo una ricerca scrivendo su Google il sito che abbiamo appena visitato che riporta l'inserzione seguito da opinioni beh i risultati che otteniamo non sono per nulla incoraggianti quindi cari amici soprattutto se acquistate da siti poco conosciuti e relativamente nuovi l'unico sistema che vi tuteli è Paypal se un sito non l'accetta beh io ne starei veramente alla larga o quantomeno sarei molto molto cauto per essere estremamente precisi nemmeno Amazon accetta Paypal però forse è uno dei siti degli e-commerce che tutela più il consumatore fatemi sapere cari amici sotto nei commenti se voi sapevate tutti questi trucchetti che vi ho mostrato e se soprattutto sapete della truffa del pellet bene cari amici spero di esservi stato d'aiuto e per questo video è tutto mi raccomando condividetelo noi ci vediamo in un prossimo contenuto attivate la campanella per non perdervelo un saluto dal Mastro a Grazie a tutti.